ciao a tutti il secondo live di seguito uno ieri e uno oggi ieri avevamo il grande boeri mondo dell'architettura del design oggi abbiamo un altro grande personaggio che io stimo tantissimo un amico e sono felice di chiamarlo tale andiamo a cercare ed è stefano domenicali molti di voi sicuramente già lo conoscono per chi non lo conosce avrete il piacere di conoscere questa persona questo leader stupendo oggi o comunque di vedere altri aspetti altri lati di del grande eccolo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ragazzi ciao mauro come stai sto bene sto bene grazie per il tuo invito perché sei un amico straordinario e ti ammiro tantissimo perché hai tantissime capacità io non invidio nessuno che sia chiaro però tra virgolette che ti invidio perché mi piacerebbe avere un po della tua capacità comunicativa della tua creatività del tuo ingegno e del tuo del tuo essere all'avanguardia sull'eccellenza quindi mi fa tantissimo piacere collegarmi insieme in uno strumento che per me non è tanto semplice perché vedo i miei figli soprattutto mia figlia essere sempre collegato io ahimè te l'ho detto su questo sono veramente un amatore ma va bene così sei un grande utente prima di tutto grazie per le bellissime parole che contraccambio stavo proprio dicendo in introduzione quanto ti stimo e per tutto quello che hai fatto ma anche come come persona perché sei veramente una bella persona e di questo voglio anche parlare oggi e poi perché appunto stai usando una piattaforma che non usi spesso quindi sono anche di portarti credo sia la seconda volta credo sia la seconda volta quindi ma va bene così è giusto poi anche iniziare a muoversi e guardare avanti fantastico beh per chi ci segue molti dei di chi ci sta seguendo sono sono le persone che mi seguono abitualmente tra l'altro visto Saturnino grande Mauro cos'è che hai scritto per i tuoi dischi tu lo conosci Saturnino è la grande è stato un grandissimo guarda anzi devo ritrovarci prima poi per io dico per cantare suonare è irrispettoso nei miei confronti nei confronti di chi invece della musica fa la propria vita ma è proprio perché la musica la musica ha questa grande capacità di poter far star bene insieme le persone e poi parlando di di belle persone Satu è un'altra di quelle belle persone di di cui appunto che che menzionavamo poco fa beh in pratica questo format che non rispetto mai con i miei vari ospiti e prevederebbe che io faccia tre domande a te tu faccia tre domande a me sui temi del libro in realtà se hai dato un'occhiata a qualcuno nelle conversazioni precedenti non si fa mai diventa una conversazione anche perché sono tutti amici quelli che sto chiamando a fare queste chiacchierate e quindi si parte e si dialoga per chi non dovesse sapere per i pochissimi che non dovessero sapere chi è il grande Stefano Domenicali CEO di Formula 1 adesso per tanti anni me lo so scritto dal 2008 al 2020 CEO di Lamborghini la Lamborghini che ha riportato veramente in auge con risultati strepitosi dal punto di vista di business il lancio di nuovi formati come la Urus l'SUV insomma un bellissimo viaggio in Lamborghini e prima avevi un ruolo ancora una volta molto molto pubblico come team principal di Ferrari quindi tanti ti avranno visto in televisione durante la Formula 1 team principal per il team di Formula 1 di Ferrari quindi uno di quei leader noti in tutto il mondo Stefano io lo incontro spesso a New York ed è una star del business anche in New York e poi in tutti gli angoli del pianeta tu adesso dove sei esattamente? guarda no ti dico no no fisicamente sai domenica scorsa eravamo a Zelte in Austria per il Gran Premio e domenica prossima siamo di nuovo in Austria per il Gran Premio e visto che io ho la casa nelle Dolomiti sono stato molto vicino ho fatto questi tre giorni faccio questi tre giorni a casa mia sul lago di Carezza al passo di Costa Lunga sotto il Catinaccio insomma nelle Dolomiti in Valdega perché almeno riesco a lavorare da qui collegato perché se no sarei dovuto tornare a Londra a Londra se ci sono gli uffici nostri sono a Londra e quindi ci sono le restrizioni delle quarantene ti muove non ti muove è sempre abbastanza complicato invece così riesco ad essere efficiente nonostante tutto poi dopo domani sera mi risposti in Austria per poi dopo domenica sera invece andare a Londra dove abito adesso e dove siamo come uffici della Formula 1 ma guarda una domanda che ti voglio fare subito che è anche una mia curiosità personale perché non abbiamo più mai avuto modo di incontrarci a causa del Covid dopo che hai preso questo nuovo ruolo ma cosa fa il CEO della Formula 1 esattamente tutti i giorni? Qual è il tuo scopo? Qual è il tuo obiettivo? e questo libro parla di innovazione di innovatori sicuramente tu sei un innovatore quindi come innoverai la Formula 1? guarda è il tema centrale di chi occupa delle posizioni apicali in qualsiasi tipo di organizzazione nel nostro caso e nel mio caso specifico perché non mi piace parlare del problema di Statis il vero tema qual è? è in una logica di strategia condiviso ovviamente con i nostri azionisti devo pensare a far crescere la Formula 1 e da un punto di vista sportivo e quindi da un punto di vista di contenuti di quello che è il nostro prodotto e dal punto di vista della possibilità di farlo apprezzare e conoscere ha delle audience sempre diverse il nostro lavoro non è altro che massimizzare una forma di intrattenimento nello sport in una piattaforma di intrattenimento più estensiva come concetto e quindi abbiamo eventi, abbiamo in questo momento 23 circuiti che ci ospitano e quindi da un lato dobbiamo massimizzare quello che è l'esperienza vera e propria di chi partecipa a questo evento fisicamente dall'altra parte dobbiamo allargare e far conoscere attraverso ovviamente la vendita dei nostri contenuti sportivi a chi ci segue nelle varie piattaforme tradizionali, meno tradizionali, innovative e quindi proprio una logica di quello che dici nell'età dell'eccellenza in questo concetto di innovazione totale io credo che una delle più grandi sfide che io devo portare avanti con la mia squadra è quella di gestire la transizione in un mondo dove i media stanno trasformando e si stanno trasformando, trasformandosi quindi dove si è passati nella logica di vendere un prodotto televisivamente parlando a dei canali free to air a dei canali che in questo momento sono pay tv a quelli che saranno in futuro le trasmissioni digitali sui canali OTT in un contesto dove questo concetto di transizione non ha una velocità unica è anche diversa da paese a paese, le piattaforme sono diverse da paese a paese l'integrazione dei contenuti in queste piattaforme è diversa da paese a paese noi dobbiamo completare da un lato la richiesta di chi è un tifoso super appassionato e super tecnico da un lato rispetto invece a quello che vuole essere ed è il nostro obiettivo quello di collegarsi a nuovi tifosi o appassionati che ad esempio vedono nel nostro sport delle variabili che non interessano assolutamente ai tifosi super core o super appassionati quindi il mix di capire quali sono i valori che ci servono per far sì che questa nostra Formula 1 sia sempre più attrattiva devono essere diversi rispetto al passato quindi questa logica di crescita di business ovviamente essendo una società che deve da un lato garantire una redditività importante dall'altra anche ridistribuirla alle squadre che sono i nostri attori principali implica il fatto di mantenere un'attenzione importante al fatto che sia un prodotto appetibile e quindi vendibile devo dire che questo tema in un periodo come quello di oggi dove il Covid sta cambiando tantissime regole del gioco ci vede protagonisti perché da un lato ad esempio nell'ambito di quelle che sono le offerte sui vari piste dove siamo in giro per il mondo sta venendo fuori un'esigenza di fisicità sempre più elevata del ritrovarsi e quindi chi sarà in grado di offrire delle piattaforme in questo caso sportive ma anche estensive in un concetto di un'esperienza di tre giorni dove oltre a vedere della Formula 1 ci sono altre attività sportive ci devono essere concerti musicali, esperienze digitali, esperienze interattive questo lo stiamo facendo, lo dobbiamo preparare per essere pronti alla ripartenza che purtroppo come vediamo Mauro è ad elastico tutti quanti pensiamo che sia pronta per oggi poi vediamo che ripartono questi picchi di pandemia che non sono gestiti in maniera uniforme nel mondo quindi ahimè la ripartenza sarà più lenta di quello che spereremmo tutti dall'altro lato, scusa sono stato un po' lungo però ho cercato di mettere in fila i temi veri è capire come in un'ottica di organizzazione che deve vendere praticamente dei diritti noi vendiamo praticamente dei corporate rights perché poi i team sono quelli che fanno le squadre i circuiti ci mettono in circuito le televisioni ci mettono in televisione noi dobbiamo mettere insieme un qualche cosa che sia fruibile, appetibile per tutti i protagonisti e quindi la bellezza del nostro lavoro e del mio lavoro è avere la possibilità di avere da un lato contatti quotidiani con le squadre con i piloti che sono gli attori con gli organizzatori, con il sistema politico quindi a livello ministeriale ed oltre con i primi ministri di tutto il mondo perché sempre di più le piattaforme nel nostro caso della Formula 1 stanno diventando piattaforme dove per gli investimenti necessari le società private fanno fatiche a sopportare i costi associati quindi diventa una forma di investimento nazionale dove il paese che ci ospita non fa altro che utilizzare la Formula 1 per far conoscere il proprio paese o per far sì che la Formula 1 possa diventare volano di crescita volano di crescita per il mondo il microcosmo che ci ospita Hai detto tante cose molto interessanti in cui mi ritrovo tantissimo questa idea di costruire un brand alla fine o comunque di amplificare l'impatto di un brand attraverso queste esperienze che toccano tutti i touch point in particolare hai detto una cosa che mi ha ricordato la conversazione che ho fatto ieri stesso in Instagram con Stefano Boeri con il presidente di Ternale che tu conosci e poi alcuni dei temi che tratto anche nel libro parlando di un evento che dura tot ore la durata della gara e che invece state pensando di dilatare che già sta iniziando ad accadere ma immagino vorrai farlo sempre di più hai detto adesso su due o tre giorni ieri beh la prima cosa che mi viene in mente al di là della conversazione di ieri con Boeri lo descrivo ampliamente nel libro è come gestiamo il Super Bowl Super Bowl non è una partita le città che ospitano il Super Bowl inizia la festa tre o quattro giorni prima e negli ultimi anni negli ultimi sette otto anni arrivano questi grandi concerti con le più grandi star mondiali in competizione l'uno con l'altro tu nella stessa sera nella stessa città che talvolta magari è New York o Los Angeles come sarà il prossimo Super Bowl ma talvolta è Tampa è Minneapolis ti ritrovi il concerto di Lady Gaga la stessa sera del concerto di Beyoncé Jay-Z e devi scegliere dove andare eventi tutto il giorno di ogni genere e cercare di capire i vari target audience hai grandi hai gli influencers hai le masse hai gli addetti ai lavori e come disegnare quell'esperienza è uno dei più bei progetti che noi facciamo ogni volta perché va veramente da quello che succede nei supermercati negli hotel al concerto e poi l'idea di e l'hai detto tu prima riguardo alla Formula 1 di unire per esempio mondi inaspettati attorno a quell'evento quindi portiamo la moda facciamo sfilate di moda ispirate dai brand di Pepsi ma poi è un evento sportivo quindi parlavi prima della musica e ieri si parlava con Boeri di cosa accadrà in futuro a questi eventi fisici però lui lo guardava dal punto di vista del responsabile atriennale quindi il mondo dei musei colui che è responsabile del salone del mobile adesso quindi pensando al salone e la commistione tra fisico e digitale e poi la gestione degli spazi nel tempo siamo arrivati a parlare degli stadi e ancora una volta mi è venuto in mente lui per quello che dicevamo adesso e gli ho raccontato di un incontro che ho fatto un paio di anni fa con i responsabili della più grande organizzazione mondiale di e-gaming che è l'industria in assoluto che fa più fatturato di musica cinema e televisione tutto messo insieme l'e-gaming fa più di tutte queste industrie e si riuniscono in questi stadi o in questi palazzetti e una cosa molto interessante che ci raccontavano è che la grande differenza è che mentre per andare a un evento sportivo Formula 1 una partita di calcio tu vai lì e sei in quello spazio fisico per un'ora due ore tre ore quattro ore dipende dall'evento per l'e-gaming attraggono persone per due o tre giorni di fila perché sono dei tornei che vanno avanti e quindi ci dicevano si deve veramente ripensare completamente il modo di disegnare questa esperienza di disegnare questi stadi questi palazzetti di pensare a cosa accade attorno agli stadi e palazzetti e la formula 1 in quello che raccontavi adesso veramente potrebbe andare in quella direzione guarda se mi posso permettere Mauro a parte che ci dovremmo vedere per parlare della tua esperienza in questo contesto più dettagliatamente perché è esattamente quello che stiamo costruendo ti dico di più il tema dell'e-gaming è un tema grandissimo è un tema che come hai detto a livello di dimensione economica sta crescendo ma al di là di quello sta è come dire la modalità operativa per rimanere e per agganciare i giovani che vivono nell'ambito della simulazione o nella realtà aumentata o della realtà virtuale come modalità per loro di movimento e operativa quindi noi stiamo investendo molto su questo fronte anche perché noi abbiamo a differenza di altri mondi la necessità di però agganciare quello che è la dimensione del virtual gaming rispetto alla fisicità di saper pensare che poi la gente vuole venire a vedere la Formula 1 e vuole diventare un pilota di Formula 1 o vuole diventare un incinerario di Formula 1 quindi tutte queste dimensioni dobbiamo intersecarle per fare dei pacchetti che interessino i giovani da un punto di vista del contenuto creativo stiamo lavorando con i nostri partner sull'e-gaming per far sì di rendere e noi abbiamo già un campionato di Formula 1 virtuale che vede i giovani protagonisti rende l'accessibilità a un tema che è complicatissimo che è quello e lo stiamo facendo e lo stiamo stiamo lavorando quello di poter associare la tua performance digitale nel tuo mondo collegato con i tuoi amici in tutto il mondo a quella che è la dimensione vera fisica dell'evento in sé che sta succedendo quindi questa è quello che stiamo cercando di fare e sarà straordinario non appena saremo in grado di farlo perché la complessità tecnologica e tecnica sono immense perché qui parliamo di ad esempio ti dico un dettaglio poter pensare che il tuo simulatore il tuo gioco con cui stai sfidando sulla pista dove in questo momento stiamo girando noi ad esempio domani a Zeltec abbia lo stesso tipo di posizione in tempo reale rispetto al sistema virtuale quindi capisci che le complessità tecnologiche tecniche sono immense però ci stiamo lavorando perché questo sarà un qualcosa di straordinario che stravolgerà anche da un punto di vista del business il nostro mondo e su questo lo vediamo è un tema quotidiano abbiamo un gruppo di lavoro che proprio su questi temi perché sono molteplici stanno lavorando tanto ti dico in più una cosa quando parlavamo dell'evento vissuto dal vivo il Super Bowl è un concetto estensivo di quello che noi vogliamo fare faremo non appena la ripartenza ce lo permetterà perché noi adesso stiamo facendo i campionati perché abbiamo dei protocolli molto molto rigidi di gestione del rischio cercando di minimizzarlo noi all'interno della zona che noi chiamiamo la red zone dove possono entrare solo gli detti lavori entrano solo gli detti lavori che devono essere divisi fisicamente devono rispettare il tema delle vaccinazioni e noi facciamo due test no facciamo un test PCR ogni due giorni quindi ho già fatto non so quanti insomma è l'unico modo per garantire il fatto di poter proseguire e di garantire anche che il nostro sistema che sembra di fatto di due persone ma non lo è perché adesso ti do qualche dato per capire la dimensione si deve spostare in giro per il mondo in giro per il mondo cercando di avere un impatto da un punto di vista del rischio legato alla pandemia che deve essere praticamente tendente allo zero perché se no non ci farebbero andare il fatto che fino adesso garantiamo degli eventi in territori diversi dove le regole e le normative sono diverse quindi ti lascio immaginare le complicità che dobbiamo gestire questo può avvenire solamente con la dimostrazione che il nostro sistema è robusto per poter evitare dei problemi quando torneremo a vivere normalmente è chiaro che il concetto di avere lo spazio dove faremo le finali nazionali e internazionali dei nostri simulatori e delle game il fatto di avere una fanzone dove poter vivere dei concerti il fatto di avere nel paddock club che è la zona più esclusiva degli ospiti di venire nel paddock dove siamo dove ci sono tutte le squadre la sera per vivere un contesto più di relazione come se fossimo come dire nei centri più importanti dove si ascolta la musica si può bere un drink e vivere la socialità nella maniera giusta abbiamo tante di quelle cose pronte come dire da scaricare a terra come i cavalli che devo dire grazie al cielo le idee non mancano e soprattutto i progetti non mancano in un contesto dove però e su questo mi collego a te perché tu su questo sei veramente un riferimento dove il gusto la bellezza il senso del bello come concetto portante deve essere al centro perché più andiamo nella logica di dover ritornare ad essere vicini e più dobbiamo vivere nella bellezza del dettaglio noi su questo siamo abbastanza maniacali cerchiamo di vivere con questa attenzione nei contesti in cui lavoriamo basta vedere se uno pensa noi ogni settimana ci spostiamo con tantissime persone perché il mondo della formula 1 solo sui reti di lavoro parla di migliaia di persone e ogni volta ricostruiamo i box ogni volta rifacciamo le stesse cose come se fossimo sempre nello stesso posto con un'attenzione maniacale a quello che è il dettaglio e la bellezza dell'ordine della pulizia e dell'organizzazione è uno dei temi che teniamo molto molto al centro di quello che è il modo di lavorare che abbiamo quindi se posso fare io torno a domande su questo mi ricordo uno dei libri più belli che io abbia mai letto per l'ispirazione che mi ha dato è la biografia di Steve Jobs scritta da Walter Isaacson e una delle cose interessanti che raccontava Isaacson è che Jobs era talmente ossessionato dal tema della bellezza che addirittura lui voleva l'interno dell'iPod prima dell'iPhone dopo che fosse bello che fosse bellissimo poi a un certo punto la gente apriva questi iPod iPhone e facevano hackeraggio di vario genere quindi ha inventato delle viti particolari per cui li puoi aprire solo se hai gli strumenti giusti quindi era un interno che nessuno poteva vedere lui non voleva che nessuno lo vedesse nonostante questo doveva essere bellissimo l'altra cosa che cita proprio per dire la maniacalità per la bellezza e per l'attenzione per la bellezza era le fabbriche le fabbriche devono essere stupende devono essere bellissime quando entri quindi citavi la bellezza i box mi è venuto in mente quando sono venuto a trovarti in Lamborghini e mi hai fatto vedere la fabbrica dove si viene creata la Urus che è di una bellezza strepitosa questa attenzione al dettaglio maniacale che tu comunque hai sempre avuto sì beh quello fa la differenza anche perché parliamoci chiaro noi siamo o perlomeno io ho sempre avuto la fortuna di vivere in un mondo dove il posizionamento il tipo di prodotto necessitava di questa attenzione ma questa attenzione poi la viveva chi tutti i giorni lavora per fare questo prodotto e se non trasmetti valorialmente quello che vuoi fare coi fatti nelle persone che devono farti la differenza qualsiasi sia il loro ruolo poi al fine diventa difficile come dire continuare a spingere a dire le cose se poi da un lato dici non ho soldi da investire per rendere la fabbrica più bella quando invece il tuo prodotto deve essere più bello insomma devi essere coerente e quindi sotto questo profilo io credo che questo sia un qualche cosa che ti fa lavorare meglio ma soprattutto ma soprattutto fa sentire da un grandissimo senso di appartenenza di condivisione che devi avere con le persone che lavorano insieme a te a tutti i livelli e quindi questo l'ho sempre cercato di fare ed è quello che cercherò di fare ancora nel futuro perché se mi dovesse alzare una mattina che non sento più questo stimolo vuol dire che è ora di appendere le scarpette al chiodo come si dice in gerico calcistico visto che siamo in un periodo dove si parla di calcio però questo deve essere il nostro modo di trasmettere nella responsabilità che esercitiamo nel nostro modo di essere è come quello che tu trasmetti nel ruolo che tu eserciti per la persona che sei in tutte le cose che fai e questo chi ti segue non solo professionalmente ma anche personalmente trova questa coerenza per me la cosa più difficile che faccio fatica ma a livello personale devo dirti la verità ad accettare è vedere è vedere l'incoerenza delle persone nei propri comportamenti questo onestamente è una cosa che faccio fatica a digerire e ad accettare quindi quando uno ha la capacità di essere sempre se stesso ed è chiaramente sempre se stesso la maniacalità nell'essere se stesso per me è un fattore vincente vincente che deve essere trainante per tutti quelli che o ti seguono perché ti sono amici o perché tu sei il loro leader o perché in ogni modo sono una persona che deve come tutti quanti dovremmo esercitare avere un ruolo di responsabilità nel nostro mondo questo è quello che pensi no guarda hai detto una cosa stupenda e hai ragione spesso non accade nel libro uso un po' una metafora analogia dico ci sono tante persone che la mattina lasciano prendono il badge dal comodino e lasciano lì il cuore e la loro identità vanno vanno in ufficio hanno un'altra personalità e poi tornano a casa e ritornano a essere se stessi e probabilmente non sono mai se stessi né a casa né in ufficio perché quando hai questa schizofrenia vuol dire c'è qualcosa che non funziona io chiamo questi innovatori in queste aziende questi leader gli unicorni hanno tante caratteristiche ed alcune sono moltissime quelle caratteristiche sono caratteristiche che tu hai e tutti noi ambiamo ad averle alla perfezione mai ci arriveremo per questo ci chiamo aspiranti unicorni ci sono tante che mi ricordano te ce ne sono due che veramente erano qui mentre tu parlavi mi si visualizzavano davanti che questa tua umiltà e questa tua empatia che tu hai hai iniziato questa conversazione parlando di non di io ma di noi plurale maiestatis il tuo team ma si percepisce proprio che ti succede anche a me sei quasi a disagio a dire io perché sappiamo tutti e due che il nostro lavoro arriva dal lavoro del gruppo noi facciamo come penso facevate anche voi nella multinazionale tedesca questi performance review ogni anno dove devi dire questo è quello che ho fatto durante l'anno e poi ti misurano ti 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 fanno un assessment della tua performance sulla base di quello che hai fatto io ricordo in 3M quindi l'azienda prima di quello che continuavo a scrivere we we a un certo punto le risorse umane mi hanno detto ma che we questo è il tuo performance review la devi smettere ma a me io non ce la facevo a parlare di I tra l'altro anche all'inizio addirittura all'inizio ero un middle manager senza team ma sapevo che anche quello che facevo anche da solo e c'erano gli altri come il marketing le altre funzioni quindi questa idea di portare le persone con te di farlo con empatia di farlo con coerenza tu sei così sul lavoro e sei così a casa è fondamentale la fabbrica disegnata in quel modo e immagino poi tutte le condizioni dei lavoratori come di tutto il team è parte di una filosofia di vita di un approccio che è fondamentale e che purtroppo spesso non accade e c'è un'altra dimensione e chiudo che porta questo concetto in modo romantico all'estremo ed è stato molto interessante dalla pubblicazione del libro il 6 maggio scorso tantissimi media sia sulla carta stampata che in televisione si sono focalizzati su questo punto perché non se lo aspettavano da un executive di una multinazionale ovvero il concetto della bontà che è un altro aspetto che io ritrovo in te cioè questa sai noi con un gergo un po' più corporate la puoi chiamare empatia e poi c'è questo concetto di umiltà ma nessuno parla mai di bontà e ci sono dei leader che hanno quella bontà nel senso che sono persone che hanno a cuore le persone che stanno loro attorno che sanno come portarle con sé che sanno che hanno dei filtri adesso parlo per me perché non conosco i tuoi team ma li posso immaginare ma io io me li filtro tutti i miei team devono avere questa caratteristica della della bontà della kindness che poi crea fiducia nel team crea sinergia crea efficienza crea produttività sto cercando in tutti i modi di legare un'etica del business e dell'innovazione quello che dovremmo fare a prescindere quindi questo concetto di essere buoni l'uno con l'altro con un valore di business la bontà porta produttività efficienza in questa società totalmente accelerata dove non c'è non c'è spazio per la ridondanza per team uno contro l'altro persone uno contro l'altro perché ci dobbiamo muovere troppo velocemente il vecchio il vecchio approccio al management in cui metti le persone in conflitto tra di loro il migliore vincerà secondo me non funziona più oggi semplicemente perché quel conflitto crea mancanza di efficienza all'interno delle organizzazioni hai due persone che fanno la stessa roba e uno vincerà ma falli lavorare insieme sulla base di una logica diversa guarda Mauro io credo che su questo punto io dico sempre ognuno di noi deve essere protagonista nel senso che deve dare qualche cosa in questo senso essere protagonista e la logica di vedere chi arriva nelle posizioni apicali come le nostre di vedere queste persone che non hanno cuore io non lo vedo come un gran valore lo vedo un grande disvalore perché parto da un presupposto molto banale innanzitutto io non vorrei io cerco di non fare quello che veramente io non sopporto gli altri possono fare quando si relazionano con me parto da questo che forse è una banalità ma non lo è tanto perché io nella mia esperienza mi ricordo i comportamenti manageriali che mi hanno ferito così come mi ricordo i comportamenti manageriali che mi hanno fatto crescere e quindi sotto questo profilo io non sono in grado di esercitare il mio ruolo attraverso dei filtri che sono poi delle maschere del tuo carattere perché poi prima o poi la maschera va giù perché tenerla in mano o l'elastico quindi devi essere te stesso il mio essere me stesso parte da due presupposti che sono come voi se voi anche molto basici il primo dobbiamo vivere bene la nostra vita noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace da matti che è molto interessante e che ha la caratteristica di essere bello e quindi come fai a non essere bello e buono in un contesto di questo genere ma la bontà deve essere presa come un valore positivo non come una negatività perché il buono viene visto come uno che non ha carattere o che non ha la capacità di gestire le altre persone questo purtroppo se uno ha questo tipo di accezione vuol dire che non è tanto intelligente vuol dire che probabilmente anzi sicuramente non merita di ricoprire determinati ruoli a qualsiasi tipo di livello poi è chiaro che il declinare il tuo essere rispetto a chi ti ha attorno è quell'approccio che ti rende ovviamente intelligente nel capire le persone che ti sono intorno perché c'è questo tipo di necessità di come dire di dover essere nella tua coerenza comportamentale di doverti poi muovere un po' a destra un po' a sinistra secondo chi lì è intorno ma la capacità di ascoltare e di capire che ti hai intorno è fondamentale per essere te stessi nel passaggio successivo questo per me è fondamentale hai detto bene è quello che succede a te cioè noi lavoriamo e saremo grandi se avremo delle squadre che sono più brave di noi questo è il mio modo di vedere le cose anche perché si lavora meglio e soprattutto si deve lavorare col sorriso si lavora col sorriso perché il sorriso è un fattore positivo il sorriso è positività e quando uno lavora in questo contesto non può non produrre bene perché sennò c'è qualche cosa che non funziona e quindi il contesto di poter operare in un momento come quello di oggi difficilissimo se parti da queste basi secondo me sei già molto avanti e quindi tornando alla nostra coerenza il fatto di dover lavorare prima di tutto nel plasmare il gruppo che ti senti vestito bene addosso è come quando la mattina ti svegli pensando che hai la fortuna di dire cavolo ho una giornata dove insieme alle mie persone devo fare la differenza per il lavoro che ovviamente svolgo dall'altra parte io dico la bellezza di vivere bene ti fa star bene e la gente lo capisce quindi se lo capisce e lo vive non con un senso di invidia perché questo vuol dire che dall'altra parte c'è una persona che non capisce chi sei davvero fa stare meglio la nostra società e quindi visto che abbiamo dei ruoli che hanno anche una dimensione pubblica io credo che questo sia importante in una fase della vita dove ci sono tanti problemi veri io credo che comportamenti positivi possono generare questo tipo di approccio diverso al vivere le cose perché poi alla fine anche nel nostro lavoro ci sono tanti problemi da dover gestire però un conto è gestire i problemi che fa parte del nostro ruolo se non saremmo qui un conto è come li devi gestire e come li devi risolvere coinvolgendo le persone che ti sono intorno e che ti fanno fare la differenza in un contesto sempre più multiculturale a cui noi dieci anni fa non eravamo abituati e tu hai avuto la capacità e la bravura di andare fuori dall'Italia molti anni fa e quindi hai avuto la forza e la bravura di dover gestire dei gruppi di lavoro che sono trasversali in tutto il mondo e la bellezza di lavorare con persone di culture di età di estrazioni diverse è straordinaria non è facile però se riesci a collegare tutto diventi invincibile questa è la sfida che insieme ai miei stiamo cercando di mettere in fila perché come sempre le transizioni sono i periodi più difficili e più stimolanti perché la visione probabilmente ce l'abbiamo chiara a tutti dove vogliamo andare come quando arrivarci sulla base degli strumenti che hai è quello per cui ci svegliamo tutte le mattine con lo spirito che perlomeno io come te come te viviamo e che ci deve far fare la differenza se siamo agli altri c'è Simona Valli che dice ma qui c'è da fare scuola tantissime aziende e poi G. Luca 5678 applaude immagino tanti altri staranno applaudendo a loro volta io è uno dei motivi per cui sono molto pubblico in questo mio in questo mio in questa mia visione nel senso ne parlo attivamente sui miei social nelle conferenze anche quando mi ritrovo in conferenze di puro business o di design chiudo sempre con le caratteristiche degli unicorni col modo di comportarsi di pensare perché prima di tutto penso che siano un valore fondamentale per le aziende e poi e quindi per questo ha senso e rilevante quel concetto in determinati contesti e poi perché comunque penso che sia necessario come dicevi tu prima per la società in cui viviamo però non è semplice in realtà cambiare lo status quo nel senso che già non lo è nelle organizzazioni di cui noi facciamo parte però ci si riesce in un modo o nell'altro se sei lì piano piano la difficoltà è in un paese o in comunità più allargate io penso che se le scuole iniziassero a insegnare determinati tipi di valori il valore dell'ottimismo il valore della collaborazione il valore del celebrare il successo altrui il valore della resilienza della curiosità tutte sto citando le caratteristiche degli unicorni tutti i valori che alcuni hanno un po' dentro da quando sono nati altri li hanno meno ma li potrebbero sviluppare ma la realtà è che a prescindere se li hai o meno l'educazione è fondamentale per creare consapevolezza sul valore di quei valori e poi per allenarli e per svilupparli e per fare in modo che diventino proprio il DNA della società in cui viviamo io veramente credo che le scuole potrebbero cambiare le nostre società purtroppo però nessuno parla di questi valori della bontà dell'ottimismo della sinergia della resilienza della curiosità in generale in giro per il mondo poi siamo due italiani e amiamo il nostro paese penso che se l'Italia riuscisse un po' di più a fare sinergia a lavorare insieme a celebrare il successo altrui con gli altri asset che invece già abbiamo come sistema paese potremmo fare delle cose spettacolari come cosa ne pensi sono non d'accordo stra-d'accordo con te caro Mauro io credo che noi siamo un paese che ha la fortuna di avere nel DNA del nostro ceppo perché poi alla fine è un qualche cosa di identitario la capacità di essere in ogni modo clamorosamente coinvolgente e quando parlo di clamorosamente coinvolgente lo dico come capacità di trainare e di essere da esempio per altri perché noi siamo le persone che in generale risolvono sempre tutte le situazioni risolvono tutte le situazioni in qualsiasi momento io l'ho vissuto in prima persona così come te e questo deve essere ed è un valore straordinario quindi se noi riuscissimo davvero l'hai detto bene a partire dalla nostra scuola con le nuove generazioni a puntare non su quei valori che a me sono molto forti adesso che sono quelli del contrasto quelli del fatto che se perdi se tu vinci c'è chi perde e quindi avvalorare il concetto che è quello della forza ovvero chi è più forte vince e se riuscissimo a uscire da questo da questo populismo che un po' becero che onestamente non condivido per nulla perché attenzione essere buoni essere positivi essere ottimisti non vuol dire non sapere non avere le idee chiare perché questo è il vero grande come dire punto che mi sembra per me abbastanza evidente ma per le persone non lo è evidentemente essere positivi e buoni non vuol dire dover essere fermi e chiari e duri di fronte a certe situazioni a certi momenti ci mancherebbe altro è come dire mi sembra talmente ovvio come tu ti chiami Mauro e mi chiamo Stefano però è sul concetto della modalità del passo successivo rispetto a questo momento che bisogna lavorare perché il momento del contrasto o della gestione del contrasto è una logica che scusa è un comportamento abituale della nostra società è quello che succede dopo che è diverso rispetto al fatto di essere positivi o accoglienti nella gestione del dopo rispetto a essere invece direttivi e cattivi nella gestione di chi magari non la pensa come te su questo fronte il nostro essere italiani ci dovrebbe portare a sentire questa responsabilità che credo sarebbe straordinariamente bella condividere con il mondo che ci circonda noi e questo siamo devo dire fortunati a vivere in un contesto internazionale a livello mondiale quindi ti rendi conto davvero di quelle che sono le cose che girano nel mondo e quindi abbiamo questa forza che dovremmo riuscire a trasmettere in una maniera un po' più sistemica e questo è il nostro problema e più organizzata che questo è l'altro nostro problema ma per le caratteristiche che abbiamo siamo delle persone come popolo in trasformazione è evidente che siamo in trasformazione ma che ha nell'humus di base questa caratteristica unica che non si trova con nessun altro al mondo parlando di Italia stando sull'argomento ma deviando in un'altra direzione nel libro parlo molto di questo mio ruolo da designer con questo accento italiano il modo di vestire italiano il body language italiano che si muove all'interno di queste mega multinazionali americane alla fine creando la mia start up interna perché il design center di Treme di Pepsi sono sempre state un po' una sorta di start up un'agenzia anche se non l'ho mai posizionata così perché lavoravo sull'integrazione e lavoro sull'integrazione ma sempre quello era quindi ho vissuto questa tensione tra la piccola realtà del mio team di design e di innovazione la mia italianità e la multinazionale e l'americanità di quella multinazionale in quel caso tu in modi molto diversi hai vissuto un po' questa cosa nel senso CEO di Lamborghini per 12 anni piccola realtà in realtà grande ma piccola rispetto alla mega multinazionale che serve mercati su tutti i tiers realtà del lusso craftsmanship italiana come hai vissuto questa tensione tra l'agilità del brand di lusso italiano e la mega multinazionale tedesca in quel caso l'ho vissuta cercando di far capire che la perfezione del processo è legata al fatto di avere le persone giuste nel processo non legata al fatto che il processo di per sé è talmente robusto che ci puoi mettere chiunque e il risultato è lo stesso e quindi lavorando proprio sulla centralità delle qualità delle risorse umane delle persone all'interno di questa casella che in un contesto dove la multinazionale che ho lavorato prima ovvero il gruppo Volkswagen dell'Audi era non perfetta di più anzi lo dico con grandissimo rispetto limitativa rispetto alla potenzialità che in ogni ruolo ogni persona poteva esprimere proprio perché andavi a contestualizzare qualsiasi tipo di attività in una posizione organizzativa dove se facevi meno doveva essere un altro se facevi di più era fuori dalla tua competenza a questo punto dove sta la creatività e il valore raggiunto in una posizione e non un'organizzazione così complessa quindi io su questo ho lavorato proprio cercando di dare il contesto più importante alla differenziazione legata al fattore umano e in questo contesto devo dire che proprio queste caratteristiche nostre dell'italianità e del farci vedere coi risultati perché alla fine qui parliamo mica di pizza e mandolini parliamo di numeri parliamo di macchine parliamo di quote di mercato parliamo di clienti parliamo di dettagli tecnologici parliamo di contenuti e quindi avendo dimostrato che con le nostre teorie siamo riusciti a diventare nel caso precedente un brand che da super nicchia iper nicchia era diventato un brand di tendenza un brand che è stato capace di innovare un brand che è stato capace di ritagliarsi una posizione importante in un mercato complesso come quello delle vetture supersportive è stato il fatto che siamo riusciti a dimostrare che soprattutto nell'ambito temporale quello che il sistema aveva previsto raggiungere come obiettivo in dieci anni e noi ce l'abbiamo fatta in meno della metà e quindi evidentemente qualche caratteristica positiva nel nostro modo di fare ce l'abbiamo e questo è quello che vivo nella sfida di oggi e quindi è quello che cerco di fare in un contesto ovviamente che è diverso ma che deve avere questo tipo di caratteristica ecco nella mia vita professionale così come nella tua il concetto di bellezza il concetto di creatività io ho cercato sempre di mantenere il concetto di velocità come un qualche cosa che potesse darmi prima di tutto a me stesso il ritmo per non diventare pigro perché io tendenzialmente quando mi rilasso magari sono anche se sono energetico eccetera eccetera ti viene voglia di sederti ecco la velocità il semaforo il concetto della pista ti obbliga a dire qui non mi posso mai fermare quindi è come se fosse un metronomo che continua a batterti il tempo e a battere il tempo le persone che devono insieme a te portare i risultati ecco questo se vuoi è il concetto che secondo me è un qualche cosa che ci caratterizza e che deve essere visto lo dico sempre come ho detto all'inizio con la bellezza della musicalità che in ogni modo abbiamo dentro ognuno suona uno spartito una chiave diversa di musica però alla fine se tutti suoniamo insieme quello che viene fuori dall'orchestra è straordinariamente bello sai che parlavi di velocità oltre ad essere uno stimolo per essere sempre al top e muoverti al ritmo giusto oggi è più necessaria che mai più del passato è tutto tutto accelerato nel libro ne parlo ricordandomi un qualcosa che nulla a che fare con il mondo del business del design è quasi un leap come direbbero gli americani un salto mentale che però è interessante io tanti anni fa giocavo a calcio giocavo a livello semiprofessionista mi pagavano quattro allenamenti alla settimana una partita eccetera eccetera giocavo in eccellenza interregionale e mi ricordo che ogni tanto ci si allenava con il Milan mi ricordo la prima volta e si faceva proprio una partita si andava a Milanello e giocavamo noi contro di loro facciamo letteralmente la sparring partner e mi ricordo comunque per giocare a quei livelli i nostri livelli i piedi dovevi averli comunque si giocava quindi vado lì e mi ricordo la prima partita la grande differenza non me l'avevo mai accorto prima in televisione non me l'avevo mai accorto ed era la velocità ovvero la capacità di pensare prima dove andare dove mettere quella palla e poi appena ti arriva la palla o il passaggio o comunque qualsiasi cosa si facesse era tutto fatto dieci volte più veloce rispetto a quello che facciamo noi e lì faceva una differenza ed è una cosa che è la differenza tra i professionisti le grandi star e il resto del mondo anche quelli che sono bravi quelli che sono buoni coi piedi in quel caso ma nel business è la stessa cosa cioè pianificare avere visione pensare in grandi e poi eseguire e farlo velocemente esatto hai detto la verità ma sai almeno io provo a pensarla così la grande differenza tra come dicevi tu nel tuo libro lo dici chiaramente molto bene anche la velocità non è altro che la capacità di vedere a rallenti quello che succede prima cioè qui quindi quando tu ricevi la palla tu hai già visto dove sono i tuoi compagni e dove la devi mandare e la capacità di un grande campione che può essere un campione sportivo ma può essere un campione non campione non campione diciamo un grande manager è quella di saper gestirla proprio perché nonostante i tempi e l'hai detto chiaramente sono diventati veramente frenetici la tua testa ragiona su due dimensioni la capacità di rallentare fotogramma su fotogramma la tua vita e quello che devi fare per essere il più performante possibile nel comportamento che devi attuare quindi velocità ma grandissima capacità di leggere quello che succede con una grandissima calma perché sennò per i tuoi dettagli questa è la bellezza credo che ci deve contraddistinguere soprattutto nell'essere come dire un riferimento per gli altri quindi questa è la cosa più importante e c'è un elemento fondamentale per farlo ovvero dobbiamo ancora una volta è un pilastro del libro questa capacità costante di continuare a imparare dico c'è un quote lo dici sempre nel tuo libro studenti di vita studenti a vita perché la realtà è che in quel momento in quell'attimo in quel meeting di un'ora in quella conversazione di cinque minuti tu ogni tanto devi prendere decisioni importantissime che cambiano il destino di un team di un'azienda di te stesso e in quell'attimo o fai leva su un'esperienza che hai creato nell'arco di anni e di un know-how che hai accumulato non con quello che o hai imparato a scuola o hai imparato in un ruolo specifico che tu hai avuto nell'arco degli anni ma in quello che hai imparato andando oltre il programma scolastico e successivamente al ruolo che ti avevano dato io dico sempre ai miei tu sei un graphic designer o un industrial designer devi avere quella curiosità che ti spinge a imparare tutto di fashion design industrial design interior design e poi di business di ricerca e sviluppo io quando mi ritrovo a parlare non so sullo stage del world business forum davanti a CEO e business leader io non ho studiato business io non ho un MBA però il mio MBA è stato sono state 3M PepsiCo questi grandi leader che ho incontrato in questi anni ma cosa è successo? beh ho avuto la voglia la curiosità di trasformarli i miei mentori di trasformarli in modelli di ruolo di imparare di assorbire e quindi quando mi chiedono dove trovo ispirazione o quando si pensa a come crescere i talenti all'interno dell'azienda sì possiamo trovare ispirazione facendo cose straordinarie possiamo crescere i talenti con dei programmi perfetti disegnati a tavolino da noi le risorse umane ma la verità è che sia a livello di tua ispirazione personale sia a livello di crescita come talento il 90% arriva da dentro di noi arriva da quella voglia di imparare costantemente di vedere ogni conversazione ogni viaggio ogni meeting ogni libro ogni amico ogni esperienza come un'opportunità di apprendimento ci vuole una consapolezza pazzesca perché ti possono passare davanti delle cose incredibili da cui potresti imparare cose incredibili e non te ne accorgi e poi non serve incontrare Stefano Domenicali il CEO no puoi imparare anche da un ragazzino che ti fa una domanda inaspettata e tu sei predisposto a capire il significato di quella domanda e l'impatto epocale che può avere nella tua vita nella sua ingenuità è così e io ti dico prima di concludere perché purtroppo devo andare a una riunione di collegamento per vedere in Austria cosa succede domani ma a parte gli scherzi hai detto una cosa importantissima la capacità di rimanere in ascolto di registrare quello che succede e di camerare con una curiosità pazzesca tutti i segnali che la vita ti offre e questo l'hai detto bene e lo condivido se vuoi è quello che ogni tanto provo anch'io quando mi trovo di fronte a delle personalità che dici wow questi nel nostro mondo abbiamo la fortuna di dover contrapporci o relazionarci con delle persone che sono dei personaggi veri ma veri veri quindi e quindi sai lì non è leggere i libri è cercare di essere te stesso nel cercare di sintetizzare quello che raccogli ascoltando tutto quello che ti circonda e se uno è così non deve temere nulla nel senso che non deve vergognarsi non deve non deve avere la paura di non essere all'altezza all'altezza non è chi non può esserlo perché è un arrogante perché è uno fuori posizione ma le persone belle tornando per chiudere il concetto della bellezza si devono trovare bene per forza in qualsiasi modo perché per me la bellezza è un concetto estensivo che raccoglie tutto quello che hai detto che dici nel tuo libro che parte dalla voglia di stare bene dall'ascolto dall'umiltà dalla voglia di crescere dalla voglia di essere un riferimento e la voglia comunque di lasciare qualcosa di positivo in quello che fai perché poi alla fine anche oggi è passato un altro giorno e dobbiamo affrontare un altro e quindi se non facciamo anche un debriefing costruttivo di quello che abbiamo fatto oggi vuol dire che non siamo pronti per affrontare il domani concludo con questa massima bellissima è uscito tutto quello che tu veramente rappresenti in questa conversazione quindi veramente complimenti per tutto quello che stai facendo a livello di business ma complimenti anche e soprattutto per come lo stai facendo che è una cosa che mi ha sempre affascinato di te spero di vederti presto anch'io speriamo proprio speriamo proprio Mauro tu lo sai che la Formula 1 è casa tua adesso quando vorrai e poi appena potremo girare ci vediamo di sicuro grazie di questa grande opportunità grazie a te e in bocca al lupo perché sta andando alla grande ciao e ciao a tutti e tutte le persone che ci hanno seguito ciao a tutti adesso mi devi dire come devo spegnere ma vediamo spengo io dovrebbe spegnersi vediamo ciao ciao Mauro grazie grazie a tutti